Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special con questo nuovo video. Finalmente siamo con i consigli al fantacalcio per la giornata di serie. L'anno scorso vi ho fatto dalla prima alla trentottesima giornata, eccoci qui con i consigli di giornata. Ovviamente vi ricordo di lasciare un bel like come supporto e anche se nel caso in cui voleste una live domani per darvi anche qualche altro consiglio, comunque dirvi la mia opinione su qualche piccolo dubbio in live. Detto questo vi ricordo che è anche utile avere una buona app per tenersi aggiornati per formazioni probabili, per infortuni eventuali, squalifiche, tutto ciò che vi può servire per schierare la formazione o per restare comunque aggiornati sul mondo del calcio, scaricate l'app OneFootball dal link che trovate in descrizione. App veramente utilissima, anche per le statistiche, tutto ciò che riguarda anche il fantacalcio. Detto questo ragazzi, partiamo con i consigli. Una giornata diciamo fiammeggiante perché si parte subito con Juventus-Lazio, una partita ovviamente un big match. Juventus giocando in casa è nettamente favorita, ma attenzione perché la Lazio l'anno scorso ha dimostrato di non aver paura di giocare all'Allianz Stadium, anzi ha portato a casa non sbaglio tre punti. Ovviamente vi sconsiglio qualche difensore della Lazio, soprattutto chi gioca nel centro-destra. Dovrebbe giocare forse Wallace, anche se in ballottaggio con Caceres. Vedremo chi giocherà, in ogni caso evitateli, soprattutto i centrali. Della Juventus si può schierare chiunque, ma attenzione ai centrocampisti delle due squadre perché potrebbero prendere delle ammunizioni. Forse gli attaccanti della Lazio, comprese Luisa Alberto centrocampista e Luisa Alberto e Milinkovic che potrebbero risultare nella vostra lista contro i centrocampisti, potete comunque schierarli perché potrebbero comunque prendere dei bonus o dei buoni voti. Ovviamente a vostro rischio e pericolo. Passiamo a Napoli-Milan, altro match importante di questa giornata. Ovviamente sulla carta, soprattutto giocandosi al San Paolo, è favorito il Napoli. In porta dovrebbe giocare anche stavolta Carnes, se non è sicuro, è in ballottaggio. Per quanto riguarda i vari reparti del Napoli potete schierarli un po' tutti, però dovete fare attenzione anche un po' ai ballottaggi, sia quello di Zalinski che quello di Milink. Però potrebbe essere confermata super giù la formazione della scorsa giornata. Il Milan invece fa il vero e proprio esordio perché ha riposato la scorsa giornata, quindi occhi puntati soprattutto su Higuain, che tra l'altro è un ex, quindi attenzione a lui, a Suso e a Buonaventura. Potrebbero essere quelli più schierabili del Milan, insieme a Romagnoli. È l'unico forse della difesa che mi sento di consigliarvi. Attenzione invece al centrocampo del Milan, sinceramente li terrei un po' fuori. Passiamo a Spal Parma. Qui una sfida per la salvezza, la Spal ha vinto la prima partita. Gioca in casa, quindi è un po' favorita se vogliamo. Attenzione assolutamente da mettere, ma così come anche inglese dall'altra parte. Se vi devo dire dei nomi un po' scommessa, potrebbero essere Petagna, ragazzi, che se gioca titolare chissà, magari si segna un gol a sorpresa. E Di Gaudio dall'altra parte. Occhio anche a Grassi, che potrebbe fare anche lui una buona partita. Passiamo a Cagliari-Sassuolo. Questo match è interessante perché vede il Cagliari, che è stato uno dei flop della prima giornata, quindi ha fatto non proprio una grandissima prestazione contro l'Empoli. Quindi mi aspetto una reazione da parte soprattutto di Castro e Pavoletti, che secondo me sono giocatori da poter schierare. Poi gli altri, magari soprattutto la difesa, forse è meglio dare qualche altra giornata di pausa o di riposo prima di schierarli. Mentre Del Sassuolo, che ha fatto una grandissima prestazione contro l'Inter, sono schierabili ovviamente il reparto offensivo, quindi i vari Berardi di Francesco, soprattutto in leghe numerose, si possono schierare. Boateng, come centrocampista, ve l'ho detto ragazzi, una delle migliori scommesse da fare perché gioca attaccante, almeno per il momento, quindi schieratelo ovviamente. Dangan ha fatto una prima prestazione, ma schierabile solo in una realtà numerosa. Forse dei terzini potreste schierare appunto Lirola e Rogerio, invece da evitare forse i centrali, che potrebbero magari combattere un po' troppo con Pavoletti, quindi prendere anche qualche cartellino. Passiamo a Fiorentina-Chievo. Qui la Viola ovviamente fa l'esordio, visto che ha riposato anche lei la prima giornata. Occhi puntati ovviamente su Chiesa e Simeone, quelli più appetibili a fantacalcio che ci si aspetta magari dei bonus. Schierabile anche Benassi, gli altri centrocampisti li eviterei. Attenzione ovviamente a qualche ballottaggio, sia per quanto riguarda il centrocampo che magari per la difesa del Chievo. Attenzione ragazzi, perché la scorsa giornata si sono difesi abbastanza bene contro la Juve, però non è detto che ci riescano anche questa volta contro la Fiorentina, quindi forse Giaccherini è ancora da schierare, Stepinski dovrebbe partire anche questa volta titolare, però non so se lo schiererei, neanche una lega numerosa. Birsa potete dargli anche un'altra giornata di riposo, a meno che non siete in emergenza potete provare a schierarlo, dovrebbe ritornare titolare, non è ancora però detto. Per quanto riguarda la difesa, forse potete lasciarli un po' fuori. Frosinone e Bologna, altra sfida per la salvezza, entrambe hanno perso la prima giornata. Il Frosinone gioca in casa, quindi magari davanti al proprio pubblico avrà una spinta in più, però sinceramente non vedo dei giocatori proprio da schierare. Forse Molinari e una lega numerosa, lo stesso Perizza potreste provare. Forse del Bologna invece vedo magari Zemaili o Pulgar schierabili insieme a Dix, uno dei difensori low cost che potrebbe rendere bene quest'anno insieme a Mattiello, mentre dell'attacco forse Falcinelli potrebbe essere schierato o Palasio. Qui però il problema è che c'è molto ballottaggio, quindi cercate di capire bene chi dovrebbe giocare titolare. Genoa e Empoli. Si gioca a Marassi, dopo appunto anche la pausa doverosa per il lutto. A Genoa mi aspetto una grinta particolare da parte dei giocatori del Genoa, quindi secondo me si possono schierare ad esempio Criscito che può fare magari anche un assist per Piatek, chissà, Piatek ad esempio lo schiererei a tutto proprio da mettere ragazzi, schieratelo. Io sinceramente lo metterei e può essere che lo metto anche in uno dei fan da calci in cui l'ho preso. Poi per quanto riguarda l'Empoli invece, Krunic e Zaic che sono i centrocambisti con maggiore qualità, potrebbero far bene ma avere un rendimento magari inferiore a quello della scorsa giornata dove hanno fatto uno assist e l'altro gol. Dell'attacco invece, chissà, magari questa volta si sblocca Antonino Lagumina, può essere ragazzi, vedremo. Nella difesa, Silvestre, aria di derby perché ho giocato nella Sampdoria, però si può schierare in una lega numerosa soprattutto di Lorenzo, ma forse può prendersi in una sufficienza. Comunque considerate che in genere le difese a Marassi non compiene spesso schierarle perché finiscono spesso partite in over. Vedremo come finirà questa. Passiamo a Inter-Torino. Ecco, qui una sfida ovviamente molto molto interessante. Abbiamo una squadra che ha perso contro il Sassuolo, l'Inter che deve quindi reagire. Mi aspetto ovviamente un gol da Mauro Icardi, soprattutto perché l'ho preso nel fanacalcio dei YouTubers. Vedremo appunto, dovrebbe tornare titolare Peric sulla fascia. Potrebbe essere riutilizzato il 4-2-3-1, però non sappiamo ancora se partirà Nengolan titolare. Dovrebbe essere recuperato, vedremo se giocherà dall'inizio. Asamoah dovrebbe tornare a sinistra, quindi finalmente tolgono di mezzo un po' d'Alberta, almeno sulla carta, poi chissà se verrà veramente rischierato. A centrocampo dovrebbero giocare Brozovic e Besino. Io sinceramente a centrocampo forse questi due li darei anche da parte. Però invece potreste schierare vari Politano, Pericic e Cardi. Questi invece si possono schierare. Occhi ai difensori che lottando magari con Belotti potrebbero anche prendere qualche cartellino. Ovviamente però screener e devrai è difficile lasciarli fuori, quindi io potrei anche schierarli. Cioè sì, rischerei di schierarli. Per quanto riguarda il Torino, ovviamente Belotti avendolo preso non si può lasciare fuori. Stesso discorso per Iago Falca, che è comunque un giocatore talentuoso che può sempre portare dei buoni voti a casa. Ansaldi è un ex, attenzione, perché chissà, se azzecco ragazzi il gol o comunque l'assess di Ansaldi è finita. Il resto dei giocatori forse li lascerei fuori, perché potrebbero prendere delle ammunizioni. Udinese e Sampdoria. Qua in questa partita c'è qualcosa che mi interessa, ovvero il rendimento di Lasagna, che la scorsa giornata ha fatto un po' schifo, e di Barak, anche se Barak è un po' in ballottaggio, perché potrebbe essere utilizzato ad esempio Possetta e Machines come esterni, in un 4-2-3-1. Vedremo, vedremo. Sinceramente con Barak hai un assetto un po' più equilibrato. Io comunque lo schiererei. Schiererei un po' il reparto offensivo dell'Udinese, invece lasciando fuori quello difensivo. Stesso discorso però per la Sampdoria, visto che alcuni giocatori sono anche nuovi, come Collei, che potrebbe fare bene una buona prestazione, però è un po' una lotteria, un po' un rischio. Mentre il reparto offensivo con Quagliarella, Ramirez, e attenzione a Jankto che è un ex, questi giocatori si possono schierare. Passiamo all'ultima partita. Roma-Atalanta si gioca di lunedì, visto che l'Atalanta ha l'Europa League e proprio l'Europa League potrebbe farsi sentire nelle gambe dell'Atalanta, quindi potrebbero anche essere un po' più affaticati e perdere un po' di lucidità durante la partita. Quelli più schierabili dell'Atalanta magari sono Pasalic, il Papu Gomez che sembra comunque in forma in questo inizio di campionato. Attenzione invece ai difensori, forse li potreste tenere da parte. Per quanto riguarda la Roma, invece schierabile, secondo me, anche la difesa. Il centrocampo, forse De Rossi e Ialtrim, forse Strothman potrebbe giocare, questi li potreste lasciare fuori. Pastore invece, mi aspetto, possa fare una prestazione migliore della scorsa. Per quanto riguarda l'attacco, Zeko ovviamente si schiera sempre, mentre Hunter dovrebbe partire titolare, Klaibert potete schierarlo, nonostante possa rigiocare dalla panchina e subentrare per magari dare una mano alla squadra, sempre a partita in corso, come è fatto appunto contro del Torino. Questa è la mia opinione. Questi sono i miei consigli. Se avete qualche piccolo dubbio, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Piccolo dubbio, mi raccomando ragazzi, perché siete tantissimi. Quindi più corto il commento, più a più persone posso rispondere. Se vedo già dei commenti lunghi, è probabile che non vi potrò rispondere ragazzi, per dare, diciamo, un po' la possibilità a tutti di avere una piccola risposta. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio per la visione e per il supporto tramite like e condivisioni. Vi auguro buona fortuna per questa giornata. Vi ricordo anche di schierare la formazione nella nostra Lega, la Lega pubblica sul Fanta Paz, la Carmi Specials League. E vi ricordo di scaricare l'app OneFootball dal link che trovate in descrizione. Detto questo, ci vediamo con un prossimo video o la live di domani. Ciao!